I dipendenti dell'ARAS, della Zotecnia e Blea protestano per gli stipendi arretrati per l'assenza di un piano industriale, il commissionamento che dura ormai da sei anni. Un segnale forte di protesta chiude l'ufficio lunedì 11 aprile. Sarà sottoposta ad una terza perizia, Veronica Panarella, una risonanza magnetica alla testa, la richiesta e dei periti del GUP. Le relazioni delle altre due perizie, quella sulla capacità di intendere volere e sulla capacità genitoriale, saranno depositate il 15 maggio. L'ultimo candidato sindaco a Vittorio è Vincenzo Statelli, espressione della lista progetto impresa. Intanto Arcangelo Mazza annuncia i primi tre componenti della squadra assessoriale alle urne il 5 giugno e l'eventuale ballottaggio il 19 giugno. Una mostra a breve storia del resto del mondo di Petro Ruffo a cura di Laura Barreca è stata allestita nella splendida cornice di Palazzo Valle a Catania per volere delle fondazioni Pulisico-Sentino e Terzo Pilastro. L'esposizione rimane aperta fino al 10 luglio. Ancora buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione. Non avete sentito in apertura, parliamo di sindacale, perché i dipendenti dell'ARAS, l'associazione regionale degli allevatori siciliani e anche quelle della zootecnia Iblea si asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, quindi campagna e anche amministrativa, l'11 aprile in segno di protesta, diverse le cause del malcontento, stipendi arretrati da 8 mesi, un'assenza di prospettiva dei lavoratori, il commissariamento che si protrae da ormai 6 anni, periodo nel quale oltre a ricorse agli ammortizzatori sociali, per il personale dipendente non è stato elaborato alcun piano industriale di rilancio e di prospettiva in vista del nuovo PSR 2014-2020. I fondi per il comparto in realtà sono stati previsti, ma ci sono molti di questi che andranno all'Inps e ad Equitalia. Mentre l'ho stata prevista anche altre somme che però arriveranno in maniera molto ridotta rispetto a 5 anni fa. Allora facciamo il punto in questo servizio. Stipendi bloccati da 8 mesi e nessun piano di rilancio del settore, che è bloccato per una mancata riorganizzazione, nessun futuro lavorativo per i dipendenti. E' il quadro sconfortante presentato dai sindacati dei lavoratori Aras, l'associazione regionale degli allevatori siciliani e da quelli della zootecnia al direttore regionale dell'Aras Carmelo Mieli, al commissario Giorgio Biserni, alla dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Rosaria Barresi e all'assessore a Ramo Antonello Cracolici, oltre al presidente della regione siciliana Rosario Crocette. Il presidente della commissione bilancio all'Ars, Vincenzo Vinciullo, ha sollecitato con il dirigente generale Mieli l'assessorato regionale all'agricoltura per sbloccare le somme previste per il comparto, invitando anche Cracolici ad avviare un confronto serrato con il governo, perché quei 2.600.000 euro per i dipendenti in questione come finanziamento dello Stato sono somme esigue e diminuite di un quinto rispetto a 5 anni fa. Uno scelerato accordo tra Stato e Regione lo ha definito Vinciullo, almeno ce ne vorrebbero 5 milioni. Il parlamentare Vinciullo ha anche chiarito che per l'Aras sono previsti due mandati, il primo di 733.000 euro, ma 330.000 entrano nelle case dell'Inps e 400.000 i dipendenti necessari a pagare solo uno stipendio. Le somme, ha dichiarato il presidente Vinciullo, potrebbero essere accreditate già giovedì. Il secondo è il contributo della Regione, di 251.000 euro, che andrà a equitare per debiti preghessi del comparto. Oltre a queste somme, lo Stato ha erogato alla Regione 978.000 euro per l'Aras, per consentire il pagamento di altre due mensalità, ma sono somme che devono ancora essere accreditate. Sono ferme all'assessorato al bilancio. Vinciullo ha ricordato quando erano previsti 2.400.000 euro per il settore allevatore zootecnia e l'amendamento è stato bocciato con il voto segreto in aula e il presidente dell'Assemblea Ardizione lo ha dunque stralciato. Una situazione di stelo, cui sono sempre opposti i lavoratori, fino anche davanti all'assessore all'agricoltura Cracolici, che aveva presentato un disegno di legge a sostegno dell'Ente affinché si scorpori dalle somme messe a bando nella finanziaria la somma istituzionale dovuta all'Aras per i fini statutari previsti per legge. Da quell'incontro non è stato conseguito alcun risultato. L'11 aprile il comparto si asterrà dal luogo di lavoro. Già il 4 aprile l'avevano anticipato, proclamando lo stato di agitazione dei dipendenti i quali auspicano che si possa svegliare la coscienza sociale e politica siciliana per una definitiva risoluzione alle problematiche Aras, puntando ad una rete di rilancio della zootecnia isolana ad un efficientamento dei servizi al sistema allevatori. Via libera alle graduatorie dei forestali siciliani. Questa mattina l'assessore al lavoro Gianluca Miciche e le segreterie regionali di FAICISL, FAICGL e Willa Willa hanno sottoscritto l'accordo che rende definitiva la pubblicazione delle graduatorie che potranno essere utilizzate già dai prossimi avviamenti al lavoro. Le graduatorie che andranno in pubblicazione non prevederanno invece il reintegro delle posizioni liberatesi dopo le esclusioni operate mediante verifiche dei casellari giudiziari e per il momento non è prevista neanche la sostituzione dei lavoratori esclusi mediante scorrimento del graduatoria. Adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca perché Veronica Panarello sarà sottoposta ad una risonanza magnetica alla testa. lo ha autorizzato il gruppo dopo una richiesta da parte dei suoi periti e vedranno soprattutto le tipo di condizioni neuroradiologiche, morfologiche e funzionali e sarà sottoposta questo tipo di perizia in una clinica di Catania. Una perizia quindi slitta la data della celebrazione del processo con rito abbreviato. La relazione sarà depositata il 15 maggio. Non sono finite le perizie nei confronti di Veronica Panarello e la 27enne accusata di aver ucciso il figlio Loris e di averne occultato il cadavere il 29 novembre 2014. In una clinica di Catania, come hanno richiesto i periti del gruppo andrereale, sarà sottoposta ad una risonanza magnetica alla testa per verificare le sue condizioni neuroradiologiche, morfologiche e funzionali. Il motivo è accertare la presenza di eventuali malformazioni che a questo punto potrebbero incidere anche sulla capacità di intendere e volere, anche perché è probabile che i periti siano comunque orientati verso questa decisione che costerebbe alla donna l'ergastolo. Considerata la riduzione di un terzo della pena, con il rito abbreviato, potrebbe essere infitta una condanna a 30 anni e l'aumento fino a un terzo se sarà invece riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Ovviamente cambierà il destino della Panarello se sarà invece riconosciuta e incapace totalmente di intendere e volere in quanto non sarà imputabile. La data del processo con il rito abbreviato lo potrà già stabilire il gruppo Andrea Reale l'11 maggio durante il rinvio dell'udienza per la deposizione della perizia psichiatrica fissata il 15 maggio. Oltre a questa perizia, ne sarà depositata una terza relativa alla capacità genitoriale. Attualmente l'accuso da esclusiva del minore, il fratellino di Loris, è stata affidata al papà Davide e alla nonna paterna. Davide ha detto agli investigatori di non avere mai sospettato della relazione tra Andrea Stivali, il padre e sua moglie. Nulla che potrebbe ricondurre le due come presunti amanti. Con questa versione la Panarello ha detto di aver fornito il movente, ma è da accertare ancora se risulti vero. Si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa di San Giorgio a Modicalte i funerali di Rosaria Bravo, l'insegnante di 58 anni è rimasta vittima di un incidente stradale ieri pomeriggio in via Silla a Modica Sorda. La donna madre di due figlie lavorava come docente nell'Istituto Elementare Comprensivo Santa Marta, ma era distaccata nel plesso di Sant'Elena. Sarà Bravo ieri mattina, era andata regolarmente a scuola. Poi il pomeriggio la donna a bordo della sua utilità era una Peugeot 107 mentre percorreva via Silla all'uscita da un incrocio e è rimasta schiacciata fra un SUV, Kia e una Ford. Inutili soccorsi per tentare di strapparla alla morte. Domani l'ultimo saluto. Ultima pagina parliamo di politica perché come già sapete si voterà il 5 giugno come nel resto d'Italia per le amministrative in Sicilia. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 19 giugno e a vittoria aumenta già il numero dei candidati a sindaco. Al momento sono 10 in questi giorni e è stato proprio ufficializzato la candidatura dell'imprenditore Vincenzo Satelli. Allora facciamo il punto nel servizio di Carmela Minardo. Si svolgeranno il 5 giugno le amministrative in Sicilia mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 19. Sono 28 i comuni siciliani che andranno al voto. Le operazioni si terranno solo la domenica. È stata la presidenza della regione a correggere una precedente comunicazione in cui si prevedeva una o due giorni elettorale per le amministrative il 5 e 6 giugno. Una scelta da parte della giunta regionale per far coincidere quella delle elezioni siciliane con quella del resto d'Italia. E intanto si infervola la campagna elettorale a Vittoria, unico comune ebleo che andrà al rinnovo del consesso. Proprio in questi giorni si è aggiunto un altro candidato a sindaco. Si tratta di Vincenzo Statelli che sarà sostenuto dalla lista Progetto Impresa, composta per lo più da imprenditori e professionisti che hanno deciso di scendere in campo con un proprio rappresentante in vista delle prossime elezioni. Già qualche settimana fa il gruppo era uscito allo scoperto facendo intuire l'intenzione di voler scendere in campo, anche se non si era parlato di un candidato a sindaco, espressione diretta dell'associazione. Dall'altra parte c'è chi annuncia i nomi degli assessori, come Arcangelo Mazza che ne ha già pronti tre. Si tratta di Rosario Cassarino, Francesco Bentivegna e Alessandro Russo. E i componenti del Movimento 5 Stelle si sono divisi in tre. Un gruppo appoggerà Carmelo Giordanella, un altro andrà con Irene Nicosia e una parte con Aiello. Riccardo Terranova, dopo aver abbandonato Forza Italia, annuncia i progetti per i primi 100 giorni. Lisa Pisani, dal canto suo, continua la propria corsa a Palazzo Iacono. A loro si aggiungono Rosario Rinaudo, che rappresenterà il Movimento degli Agricoltori, Giovanni Moscato e Giovanni Lombardo. E si è dimesso per motivi personali il consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Ragusa, Luca Schinina. La decisione è scaturita a causa del trasferimento per motivi di lavoro, che dunque lo porteranno fuori da Ragusa. Subentrata Schinina sarà Gianluca, la Terra Bella, primo dei non eletti. La surroga del nuovo consigliere avverrà nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Si chiama Una vita da social del progetto promosso dalla Polizia di Stato, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, per spiegare ai ragazzi l'uso consapevole di Internet, quindi anche dei social. Il progetto ha fatto tappe in diverse città della Sicilia. Vediamo. Una vita da social è il progetto di sicurezza nell'uso della rete rivolta agli utilizzatori e social network, in particolare agli studenti e alle scuole secondari di primo e secondo grado, a loro insegnanti e ai loro familiari. L'iniziativa è voluta dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. È un progetto ovviamente indirizzato ai giovani, che sono i principali consumatori della rete. L'iniziativa vuole fare in modo che Internet possa essere vissuto da tutti a partire dai banchi di scuola, come un'opportunità e non come un pericolo. I pericoli sono tanti, sono quelli della vita quotidiana, ma ovviamente si amplificano con l'utilizzo dei nuovi media, quindi dall'adescamento, il grooming, ma soprattutto cyberbullismo, di cui ci stiamo occupando sempre di più. Informare i giovani, ma informare anche gli adulti che forse sono meno preparati a quello che è il mondo dei social. Allora gli adulti che mettono foto, che condividono, che usano Facebook, Twitter e gli altri mezzi con molta facilità, ma forse anche con molta superficialità. Cosa diciamo? Ecco, di stare attenti. Ha detto bene. Dovremmo informare soprattutto gli adulti, gli adulti che sono spesse volte genitori. Non ultimo il caso della pubblicazione dei bambini appena nati o di bambini comunque infradolescenti, infanti, su Facebook con un giro virale. Ecco, noi ovviamente diamo dei consigli al di là degli aspetti penali. I consigli riguardano sempre la precauzione, la prudenza, perché la rete non dimentica, quindi un'immagine pubblicata in rete magari rimarrà lì per sempre. La Costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica è l'oggetto di una lettera che i segretari della CGL e della Funzione Pubblica hanno scritto ai sindaci di Ragusa, Cate, Chiara, Monte, Gulfi, Comiso, Gioratana, Ispica, Modica, Monte Rosso, Almo, Pozzallo, Santa Croce, Camerina e Vittoria. Entro il prossimo 12 aprile scrivono i sindacati l'Assemblea dei sindaci del territorio deve costituirsi formalmente in Assemblea Territoriale Idrica e approvare lo statuto appena il commissariamento occorre. Quindi eseguire con attenzione non solo gli adempimenti formali in termini di passaggio delle consegne, scrivono Avola e Latuca, ma anche e soprattutto verificare gli atti amministrativi e di controllo che i commissari e i liquidatori in questi due anni e mezzo dovrebbero aver compiuto e messo per iscritto come previsto dal decreto marino. Ed è stata inaugurata questa mattina nel quartiere di Montepo a Catania, la prima casa dei catanesi. È un luogo di accoglienza, aggregazione, dove associazioni, enti, singoli, cittadini potranno incontrarsi e promuovere anche attività di diversa natura. Vediamo. Si chiama la casa dei catanesi ed è stata consegnata questa mattina dal sindaco di Catania Enzo Bianco. Lo scopo di queste case, che sorgeranno anche in altri quartieri periferici della nostra città, è quello di dare un luogo di incontro, ma soprattutto di aggregazione, a chi questi quartieri li vive. Dunque associazioni, onlus, cooperative e singole persone potranno realizzare eventi in campo sociale, assistenziale, culturale, scolastico, turistico, sportivo, ricreativo e ambientale. È una scelta precisa, quella di utilizzare le vecchie sedi delle municipalità, non solo come luogo amministrativo dove sbrigare faccende, ma un luogo dove i catanesi si possono incontrare liberamente, a loro disposizione. Un luogo dove si possono fare una mostra, tenere un dibattito, giocare a scacchi. Un luogo dove i cittadini hanno uno spazio a disposizione. Partiamo da Montepo, che è un quartiere che ha molto bisogno di questo e di mille altre attenzioni, e lo faremo anche in altre cinque località, quindi complessivamente dalla zona sud alla zona nord, nel giro di un anno noi avremo sei case dei catanesi a disposizione della città. Particolarmente soddisfatto anche l'assessore al decentramento Marco Consoli, che ha presentato questa mattina i progetti che riguarderanno il futuro delle case dei catanesi per la nostra città. Questa è la prima casa dei catanesi che il sindaco inaugurerà e la inaugurerà a Montepo. L'obiettivo è quello di, due sono gli obiettivi innanzitutto, primo recuperare gli spazi comunali, cioè non lasciare in uno stato di abbandono gli edifici comunali e donare alcuni di questi spazi ai cittadini. C'è là una notizia di politica, perché è stato deliberato dall'Aggiunta Municipale di Ragusa Rinnovo per 12 mesi il protocollo d'intesa sottoscritto con il Libero Consorzio Comunale per la gestione congiunta degli InfoTourist. Nel corso dello scorso anno abbiamo potuto registrare ottimi riscontri rispetto alla sperimentazione avviata in collaborazione con il Libero Consorzio, ha sottolineato l'assessore comunale al turismo Stefano Martorana. I numerosi visitatori e turisti hanno potuto utufruire di un servizio integrato di informazione e promozione turistica efficiente e completo. Nella splendida cornice di Palazzo Valle per volere della Fondazione Puglisi Cosentino e della Fondazione Terzo Pilastro a Catania ha preso il viola mostra Breve storia dell'arresto del mondo di Pietro Ruffo a cura di Laura Barreca. L'esposizione rimarrà aperta fino al 10 luglio. Breve storia del resto del mondo. Questo è il titolo dell'ampia personale di Pietro Ruffo a cura di Laura Barreca. Mostra ospitata presso la Fondazione Puglisi Cosentino e organizzata di concerto con la Fondazione Terzo Pilastro. Al centro della mostra una sequenza di opere di grandi dimensioni realizzata dall'artista romano al 2005 e a oggi. Il tema principale dell'esposizione è la libertà vista nelle sue mille sfaccettature ed è per questo che l'artista e nelle sue opere mette in moto un'applicazione di uno stile con un lunghissimo lavoro manuale e l'accuratezza nei particolari che punta appunto sulla libertà e che ci pone davanti a un'importante realtà. Essa va cercata innanzitutto dentro noi stessi. Questa mostra per me è molto importante. Arriva in un momento del mio percorso artistico in cui c'è bisogno di fare un passaggio dall'essere il giovane artista a diventare qualcosa di diverso. Questo aereo è vero che è costruito in scala 1 a 1 esattamente seguendo i modelli originali però è rivestito di carta, di un materiale estremamente fragile e quindi c'è questo contrasto tra una macchina che comunque serviva nella guerra e la fragilità della carta, la poesia della carta. Riteniamo che sia doveroso fare un discorso culturale di un certo tipo e con la fondazione Puglisi Cosentino ci siamo riusciti perché sta operando in modo molto attento sul territorio, sta facendo in modo che la cultura, l'arte in generale diventi come dire il motore dello sviluppo e della ricerca del territorio. Adesso c'è una notizia che riguarda lo sport vincere per andare in testa la classifica del massimo campionato di basket femminile dopo la vittoria con Luca in campionato e soprattutto dopo la conquista della storica Coppa Italia Passalacqua Spedizioni ha la possibilità di agganciare in classifica nel recupero con Schio proprio le Toscane di portarsi a pari punti con la squadra di Diamanti ma con entrambi gli scontri diretti a favore ma a separare le acque e le bianco-verdi da questo traguardo ci sarà prima Schio e poi Venezia domenica prossima l'impegno del Palaminardi di domani sera e dei più ostici ma al tempo stesso dei più affascinanti. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria lo troviamo però tra poco. E non ci sono ulteriori aggiornamenti vi ricordo che anche questa edizione può essere visualizzata sul nostro sito internet videomediterraneo.it vi aggiorno l'appuntamento con MDG questa sera alle 19.45 Grazie per averci seguiti e ancora buon proseguimento. Grazie per aver guardatoíve Grazie per aver guardato